partiti cavalli della quarta corsa dall'interno feeling good dangerous game total euforia questo il primo parziale insieme allo stesso Garouk che ha chiuso da favorito in quarta posizione per corsie esterne troviamo anche Adrio con la giubba a scacchi bianca verdi cap rosso in quarta posizione all'esterno c'è Shardonnay a precedere anche l'altra giubba scura che è quella di Kendar Joy e tutto il resto del gruppo la prima parte di gara è stata piuttosto svelta con il ritmo imbastito in avanti da dangerous game in seconda posizione troviamo Garouk in terza total euforia in quarta Adrio in quinta Shardonnay e poi ancora feeling good Kendar Joy brigant mon amour che all'interno mirtilla in fondo al gruppo ci sono Bora de Griff e best of Griff cavalli che sono a metà curva con dangerous game ancora in vantaggio sul ritmo incessante Garouk che non lo perde mai di vista in terza posizione c'è total euforia su Adrio poi ancora Kendar Joy feeling good Shardonnay mirtilla brigant mon amour ma siamo già in dirittura d'arrivo con dangerous game subito avvicinato al suo esterno da Garouk prova a venire avanti anche total euforia lo stesso Adrio e Kendar Joy che sono quelli al centro della pista Garouk che ha preso del margine adesso deve amministrarlo perché dall'interno si fa sotto feeling good lo stesso total euforia con Adrio e Kendar Joy a più al centro della pista gli ultimi 200 metri sono in totale suples per Garouk che vince facile c'è lotta solo per le piazze feeling good che emerge per il secondo al terzo Adrio con Garouk che vince bene regala la prima vittoria in carriera dunque al grigio da Zebedee al secondo posto feeling good numero 8 al terzo il numero 1 Adrio va in archivio così anche la Maiden sul Miglio in pista piccola vince Garouk al sesto tentativo in sella salvatore Sulas il training è quello di Silvia Mendole colori sono quelli della scuderia Collepapa 9 al primo posto dopo un terzo e un secondo è arrivato il primo dunque per il grigio al secondo numero 8 feeling good al terzo numero 1 Adrio per la cronaca al quarto il 12 total euforia dunque numericamente 9 al primo posto 8 al secondo 1 al terzo 981 all'ordine d'arrivo provvisorio ufficioso della quarta da capanella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti